Niente lezioni venerdì pomeriggio per gli studenti universitari di Cesenatico che per una volta hanno avuto la giornata libera per poter assistere all'apertura della loro nuova casa. Si tratta del Centro Universitario di Produzioni Ittiche inaugurato alla presenza del magnifico rettore Francesco Bertini, un progetto da oltre un milione di euro che con i suoi 1500 metri quadri è in grado di ospitare 180 studenti impegnati in quello che è considerata un'eccellenza nel campo degli studi universitari, ossia il corso di laurea di acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche. C'è una laurea triennale in acquacoltura, un master di primo livello e vari corsi per tecnici anche del Mediterraneo che provengono da altri paesi e ospiterà fra un anno e mezzo anche degli stabulari, quindi delle vasche adatte alla sperimentazione con animali vivi, pesci, di cui verranno attestati nuovi mangimi, nuove tecniche di riproduzione per migliorarne il benessere e la produttività. Il centro è dedicato alla memoria di Massimo Trentini, il professore che per primo si adoperò per dare vita a questo corso oltre vent'anni fa. Con una scommessa che era quella proprio di investire su un corso molto specifico per un settore però in grande crescita, sia a livello nazionale che europeo, e che attualmente vede una cinquantina di studenti ogni anno, un altissimo tasso di occupazione e anche una grande visibilità nei confronti del mondo produttivo sia nazionale che europeo.